Ragazzi, è venuto un cliente in sede per sostituire lato radio nella sua Smart 453. La macchina in questione aveva solo un sistema con Bluetooth, radio, USB. Non aveva praticamente nulla. Lo abbiamo sostituito con un custom fit dedicato per Smart da 2014-2020. Avendo sistema operativo Android, sistema di navigazione integrato, Play Store per scaricare qualsiasi app, Bluetooth, radio e soprattutto CarPlay e Android Auto Wireless. Un sistema molto fluido con 4GB di RAM e 64GB di ROM. Che altro aggiungere? Contattaci!